Si è riunito ieri il CPI, il Comitato Permanente Aziendale dell'Asla di Bari, per prendere atto della gradatoria definitiva degli oltre 120 medici che hanno partecipato all'avviso pubblico, di cui circa 100 potranno essere inseriti nei punti di primo intervento e gli altri saranno impegnati sulle ambulanze medicalizzate. Bisogna continuare a lavorare con la stessa determinazione. La mia richiesta ora è che i punti di primo intervento che non rientrano nell'accordo integrativo regionale vengano trasformati in AIR e operare in conformità alle vigenti normative al fine di garantire servizi adeguati ed efficienti. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli. Stiamo seguendo la vicenda passo dopo passo, prosegue Damascelli, e chiediamo che gli uffici dell'Asla provvedano celermente a compiere tutti gli atti burocratici necessari alla chiamata dei medici in questione affinché possano iniziare la loro attività nei luoghi indicati. Con questo potenziamento di personale i punti di primo intervento dovrebbero tornare ad essere operativi anche di notte con il turno H24. Per questo, conclude Damascelli, dobbiamo continuare a vigilare sull'operato di Regione e ASL perché siano garantiti a tutti i pugliesi servizi di pari qualità e quantità ed una seria e omogenea rete della emergenza urgenza.